Ad un mese circa di distanza, dalle 3 del 2017 di Los Angeles, cominciano ad arrivare su web i primi rumor sui videogiochi che potremmo vedere alla fiera losangelina, ad aprire le danze e proprio Ubisoft che già in passato ha dimostrato di avere al suo interno più di una talpa pronta a rivelare in anticipo informazioni sui videogiochi in sviluppo presso i vari team della software house. I videogiochi protagonisti di questi rumor sono due, ovvero Assassin's Creed e Far Cry. Nel primo caso i rumor imbalzano da circa un anno abbondante visto che lo scorso anno Ubisoft decise di cancellare la solita uscita annuale della serie per dare al team di sviluppo un anno in più per lavorare sul gioco. Gli insider rivelavano al tempo che ci doveva essere una nuova trilogia ambientata tra l'antico Egitto, l'antica Grecia e l'impero romano. Il gioco era noto col nome in codice di Assassin's Creed Empire e vedeva inoltre il ritorno delle battaglie navali, cosa molto apprezzata in Assassin's Creed 4 Black Flag, gioco che condivide con Assassin's Creed Empire proprio il team di sviluppo. Negli ultimi giorni gli insider sono tornati a parlare di questo videogioco. Secondo i nuovi rumor, infatti, non si dovrebbe chiamare Assassin's Creed Empire visto che era semplicemente un nome in codice del progetto ma Assassin's Creed Origins. Gli insider hanno confermato la presenza dell'antico Egitto e dell'antica Grecia, delle navi per spostarsi da una location all'altra e delle battaglie navali. Inoltre, cosa molto più interessante, si parla di due protagonisti nel gioco e di un sistema di progressione alla Skyrim. Molto più piccoli invece i rumor su Far Cry del gioco si era iniziato a parlare qualche giorno fa, quando Ubisoft ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un'immagine che raffigurava l'isola in cui era ambientato Far Cry 3. Tutti hanno quindi cominciato a pensare a un possibile remastrate del videogioco, quello che è sicuramente il più amato dei fan. Gli ultimi rumor invece vanno in direzioni opposte, ovvero su un capitolo inedito, Far Cry 5, ambientato nel West, nel selvaggio West. A dar forza questi rumor che vogliono Far Cry 5 ci sono due indizi. Il primo ci porta in Montana, dove una troupe di Ubisoft si trova per registrare le sequenze di un live action trailer di un videogioco non ancora annunciato e sequel di un famoso franchise. Alcune di queste scene sono state registrate da un drone e sembrano coincidere proprio con quello del gioco ambientato nel selvaggio West. E qui ci ricolleghiamo al secondo indizio che vede Ubisoft pubblicare molto tempo fa un sondaggio in cui chiedeva ai fan quale ambientazione vorrebbero per un eventuale nuovo capitolo di Far Cry. Tra le varie opzioni troviamo proprio quello del Western, o meglio di uno spaghetti Western ambientato nel tardo XIX secolo. Al momento teniamo a precisare che queste informazioni sono semplici rumor, anche se in più di un'occasione degli insider che ne stanno parlando si sono rivelati molto affidabili. A noi, dunque, non ci resta che aspettare le tre 2017 di Los Angeles, giorno in cui Ubisoft, così come tante altre software house, ci delizieranno con le loro bombe. Piccolo aggiornamento sulla questione Assassin's Creed. Avevo appena finito di fare l'editing del video quando sul web sono spuntate due nuove immagini del gioco, non ufficiali, ma che sembrano molto veritiere. Nella prima viene mostrato il deserto con sullo sfondo un paio di piramidi. Nella seconda immagine, invece, viene ritratto un televisore in cui sta girando il gioco. Sono quindi scene di gameplay, dove troviamo un personaggio di colore a bordo di una nave. Da notare come questo personaggio di colore è lo stesso visto in Project Osiris, secolo spirituale di Prince of Persia poi cancellato da Ubisoft. Probabilmente, quindi, la software house francese, nel caso queste informazioni dovessero rivelarsi veritiere, ha recuperato qualche asset del gioco. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie!